Oggi voglio insegnarvi tre esercizi molto interessanti di addominali eseguiti con l'utilizzo della sbarra. Il primo esercizio che voglio mostrarvi sono gli addominali alla sbarra gomito-ginocchio, esercizio molto interessante e che prevede di portare il ginocchio a contatto con il gomito, controllare sempre il movimento sia nella risalita che nella discesa, esercizio molto tosto. Il secondo esercizio sono le famose diagonali alla sbarra, esercizio che richiameranno l'intervento dei muscoli centrali dell'addome e anche degli obliqui, esercizio anch'esso molto difficile che richiede una grande forza della regione centrale del corpo. L'ultimo esercizio che voglio proporvi invece è un esercizio propedeutico al pull down inverso e al front lever, esercizio che richiamerà in causa non solo gli addominali ma anche i dorsali. Non posso che augurarvi buon allenamento e mi raccomando provate gli esercizi che vi ho mostrato in questo video.